Nel Vallo di Diano è sempre più allarme furti, diversi casi registrati negli ultimi giorni nel vasto comprensorio a sud di Salerno. Alcuni solo tentati e altri riusciti hanno messo in allerta la popolazione che pensava di essere al sicuro dopo l'arresto, nelle scorse settimane, di una banda di ladri specializzati nei furti in abitazioni. Da Polla a Buonabitacolo, passando per Sala Consilina fino ad arrivare alla città-museo, negli ultimi tempi pare si atteggiano la meta prescelta dai topi d'appartamento. Sembrerebbe che i soliti e gnoti, con estrema facilità, riescano a intrufolarsi nelle abitazioni, siano essi ubicati in centro o in periferia, portando via oro e contanti, ma se la ricerca frettolosa di preziosi non dovesse dare buon esito, pare si accontentino anche di merce facilmente rivendibile sul mercato nero, addirittura generi alimentari. Una vera e propria emergenza che ha spinto diverse famiglie, ma anche numerosi commercianti, a chiedere maggiori controlli. Gli ultimi colpi in ordine di tempo sono stati registrati nelle frazioni Pantano e Prato Perillo del comune di Teggiano. Nelle stesse zone i ladri nella notte hanno fatto visita a quattro abitazioni. In una sono riusciti nell'intento, portando via oggetti di valore, e negli altri casi sono stati messi in fuga dai proprietari.